L'acqua è l'elemento base della vita e le Alpi sono la più grande riserva idrica d'Europa, straordinaria fonte di biodiversità. Il 27 e 28 ottobre torna Biodiversamente, festival della ricerca scientifica sulla biodiversità. Quest'anno è dedicato all'acqua e alle Alpi. Immergiti nella conoscenza. Vieni a visitare gratuitamente musei scientifici, parchi, orti botanici ed acquari di tutta Italia. Un appuntamento del WWF da non perdere. Scopri dove su www.it. Scopri dove su www.it.it Acqua Shade, la tua nuova buona acqua.